Buonasera a tutti ragazzi, intanto come sempre vi invito a scaricarvi l'applicazione OneFootball gratuitamente, link in descrizione poi altra cosa, vi ricordo che la maglietta che mi avete chiesto tutti e tanti del dio del calcio è in vendita e anche quel link lì è in descrizione, c'è anche l'applicazione di teaser.it quindi se volete scaricarvela è molto facile da usare anche per appunto fare acquisti, quindi veramente molto belle se volete la maglia che poi non sarà l'unica che probabilmente metterò magari anche qualcosa di celebrativo per lo scudetto e speriamo per qualcosa altro però comunque chiusa parentesi. Allora, devo stare calmo, abbiamo vinto 2-1 sono contentissimo sono contentissimo perché il Milan aveva molta più motivazione rispetto a noi, perfetto però la giustificazione da Champions League a mio avviso non regge perché se mancano le motivazioni allora mi metti la primavera in campo, almeno quelli che vanno allo stadio e pagano il biglietto vedono giocatori rompersi il culo dall'inizio. Il secondo tempo è stato, cioè da loro in poi più che altro è stato ben giocato. La difesa o Brobriosa, cioè probabilmente dai tempi dei settimi posti non vedevo una difesa così in difficoltà. L'Ugari mi dispiace ma a parte la personalità marca male, marca male a parte un'azione su Piontek che ha fatto bene però per il resto marca veramente male, Bonucci, Aleksandro, Aleksandro, Aleksandro allora, poi nel primo tempo era una squadra incasinata. Adesso io non voglio dire è sempre colpa di Allegri, però anche l'infortunio di Emmerichan ragazzi. Allora è un giocatore fisico, è un giocatore che fa tanti strappi durante le partite. Io ieri nel suo pronostico non l'ho messo, adesso non voglio dire che, però non l'ho messo perché avevo sensazioni che, insomma, sarebbe stato meglio non metterlo. Fine. Perché ha giocato tanto, sta giocando tanto ed è un giocatore che soprattutto non è come Pianice. Pianice accarezza il pallone, ok? E non è un giocatore che carica tutto sul fisico, sulle gambe, sulle ginocchia, sulle caviglie e quant'altro. Emmerichan sì, e quando solleciti tante volte, ma anche mentalmente, cioè uno quando è stanco mentalmente rischia di farsi male. Quindi per me bisognava risparmiarlo e quella è una responsabilità che do da Allegri. Mi dispiace, ma io la penso così. Emmerichan, purtroppo, allora io ho visto la dinamica da quello che ho visto io, da quello che ho visto io, poi di solito sono pessimista, da quello che ho visto io è una distorsione della caviglia, ma non grave, perché non mi sembra che abbia caricato tutto il corpo sulla distorsione. Poi si è fermato, però ha giocato un po' dopo l'infortunio. Quindi potrebbe essere anche una piccola distorsione, insomma, sulla quale non bisogna lavorare un paio di giorni e poi magari ritorni disponibili. Però potrebbe essere anche che l'andata di Champions si è ingrassata. Io penso che qualora dovesse essere un qualcosa di più serio rispetto a quello che ho percepito io, diciamo, dovrebbe, dovrebbe saltare solo l'andata. Dovrebbe. Io non sono un medico, non hanno neanche fatto gli esami, quindi, però è la sensazione che ho avuto io. È una mia sensazione. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, una partita a due volti, cioè più che altro nel secondo tempo abbiamo messo un atteggiamento diverso rispetto al primo tempo, molto attendista nel primo tempo e nel secondo tempo invece molto propositivo. Keane, Keane è molto bravo, ha fatto gol ancora, però Keane ha due difetti. Uno, l'inesperienza, ma non tanto, insomma, per quanto riguarda i campi Serie A in generale. La furbizia gli manca, perché quando ha il pallone, e non può, lui vuole sempre fare la giocata d'effetto e deve per forza tenere il pallone per tentare magari poi il dribbling. Invece basterebbe scaricarla ogni tanto dietro, lateralmente. E poi l'altra cosa che ho notato, e questa cosa più che altro ce l'hanno molti giocatori che arrivano dalle giovanili, perché, insomma, nelle giovanili non fai tanto, anche se corri anche lì, però non fai, non hai questa mentalità del pressare già dall'attacco, almeno che appunto fai qualche scatto, però non hai quel, insomma, quantomeno disturbo, cioè tu devi disturbare gli avversari che hanno il pallone. Keane non fa questo. E questa cosa mi dà fastidio, perché molte volte ha il giocatore in parte col possesso palla e non gli va a dare fastidio. E questa è una cosa... De Scilio, ragazzi, è una buona riserva, ma non è da Juventus da titolare, ripeto. Spinazzola non mi ha impressionato nemmeno lui. Ha giocato almeno Spinazzola, perché non mi ricordo. Cioè, veramente, se ha giocato ha fatto male, no, vabbè, dai, ha fatto male, nel senso che cercava anche lui troppo il dribbling. Il migliore in campo? Allora, intanto, Mandzukic, primo tempo disastroso, non mi è piaciuta, a parte la semi rovesciata che ha fatto, la rovesciata molto bella, lui fa le cose difficili, ma le cose facili non le fa. Nel secondo tempo, molto bene anche tecnicamente e anche di intelligenza, quindi Mandzukic per me è un 6,5 se lo merita oggi. E il migliore in campo, un'altra volta, è Mila Lempianic. Oltre all'intercetto che ha fatto poi l'assist, bellissimo, la finta di tirare, poi l'ha passata Keane, bellissimo, bravissimo. Ha veramente dettato i tempi, sembra che abbia veramente dovuto aspettare il compimento del 29esimo compleanno, ok, per svegliarsi fuori. Spero siano, non siano solo due partite, ma spero sia una cosa continua da ora in poi. Tutto lì. Per il resto abbiamo concesso parecchio, il Milan ha fatto una buona partita, solo che ha dimostrato che quando trovano, perché diciamo abbiamo fatto due avversari diversi nel primo tempo e nel secondo, nel primo tempo abbiamo fatto tipo un Chiuverona, ecco, e contro un Chiuverona il Milan non va in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto la Juventus come ritmo e con quei ritmi lì il Milan ovviamente doveva avere un calo anche perché in primo tempo ha sprecato un casino di energie. Capitolo arbitrale. Il rigore non dato al Milan c'era, però bisogna anche calcolare che dopo pochi istanti hanno fatto il gol. Questo conferma quello che ho detto sempre io quando parlano sempre del gol di Montari. Quella volta il Milan era sopra di 1-0, gol di Montari annullato, cioè non dato, e poi non è che hanno tentato o hanno avuto altre occasioni nette per fare il 2-0. La Juventus, gol annullato a Matri, dopo 5 minuti abbiamo fatto comunque l'1-1. Oggi stessa cosa vostra, cioè non vi hanno dato un rigore netto perché per me è netto, Alexandro imbecille, 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 meno 30, ok? Per quella che è stata ma ha giocato male tutta la partita. E poi subito dopo avete fatto gol comunque. Questo vi voglio far capire che non potete attaccarvi a un gol non dato perché poi bastava farne un altro comunque e la partita sulla carta poteva essere chiusa, no? Come dite sempre, bene. Comunque questo è il quanto ragazzi. Adesso la partita contro l'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid, contro l'Ajax mercoledì. Spero ci sia Emre Can perché comunque loro corrono tanto e noi servono giocatori che corrono di fianco a Pjanic. Perché Pjanic, ok, sembra, sembrerebbe in crescita, ma ha bisogno di fianco due giocatori che soprattutto abbiano tanta corsa, che recuperino palloni, ma che abbiano comunque anche i piedi. Ma mai, hai visto adesso, ho fatto una buona partita, due buone partite. Bentancur non è la Juventus, è una buona riserva, neanche buona. Il fatto è anche lì, non metti Emre Can, cioè, metti Emre Can titolare e non Chedira. Si fa male Emre Can, non metti Pjanic, ma metti Chedira. Significa che Chedira comunque aveva 80 minuti sulle gambe, o no? Quindi perché il rischiare Emre Can comunque, tanto hai giocato a due, che poi nel primo tempo non si è capito un cazzo. Giocavano a tre, giocavano a quattro, giocavano a cinque dietro, non si capiva una sega. Tutti andavano ovunque dove volevano loro. Nel secondo tempo siamo stati un po' più equilibrati, un po' più quadrati e si è capito un po', si è capita la dinamica della squadra, ecco. Vabbè ragazzi, fatemi sapere la vostra. Nell'intervallo ero parecchio incazzato. Questo, sì, questo sì, assolutamente. Vabbè comunque, buona serata a tutti, sempre fino al free forza di vento e ci vediamo al prossimo video.